C'è il box auto convertito in esercizio commerciale in pieno centro, oppure un classico l'ampliamento del volume dell'abitazione senza denunciare nulla in comune. Nei mesi scorsi poi si è parlato delle terrazze e dei manufatti affaccianti sul ponte di Tiberio da Borgo San Giuliano dove c'è chi si è visto recapitare dagli uffici comunali la richiesta di demolizione. Crescono e non di poco gli abusi ed ilizi riscontrati a Rimini e si intensifica l'attività di controllo. Nell'anno che si è appena chiuso sono stati oltre 2200 gli accertamenti effettuati, il doppio rispetto a due anni prima. Controlli che hanno portato i vigili urbani a redigere 326 notizie di reato, 81 in più rispetto all'anno precedente. A queste si aggiungono un centinaio di violazioni penali contestate per la mancanza del certificato di collaudo e 31 violazioni contestate per dichiarazioni false, numeri questi tutti in crescita. Dei cantieri visitati 38 sono risultati regolari, mentre 6 sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. La campagna di controlli messa in piedi da Palazzo Garampi, spiega l'assessore alla gestione del territorio Roberta Frisoni, mira ad un rilancio del settore su basi più solide per una programmazione sostenibile e a misura di persona, oltre a fare rispettare a tutti le stesse leggi.